Un saluto come state ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi, iscrivervi al nostro canale YouTube, lasciare un bel like. Novità di Milan di mercato, perché il Milan si sta muovendo per rinforzare la squadra e abbiamo delle conferme importanti sul nome che si sta avvicinando sensibilmente al club rossonero, quello di Juan Miranda. Terzino spagnolo, 23 anni, ne farà 24 a gennaio del Betis, scadenza a giugno. Lui ha una partita e un gol con la Spagna, non è esattamente nel giro della nazionale spagnola, ma è un buon giocatore di spinta, offensivo, diligente anche a livello di fase difensiva. Il Milan lo sta convincendo, c'è un accordo che sembra molto vicino con il club rossonero per l'estate, quindi quando sarà a parametro zero. Ma al Milan sta parlando anche con il Betis e pare intenzionato ad offrire qualche milioncino per portarselo a casa già a gennaio. Quindi in questo momento il nome dello spagnolo Juan Miranda, si è spenta la luce, chiedo scusa, ancora l'altra, adesso cerchiamo di accendere il bello della diretta. Il nome di Juan Miranda è molto 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 caldo. Direi che il Milan ha discrete chance, se non buone chance, di perfezionare questo colpo al più tardi per l'estate, ma vuole farlo. Già per gennaio per dare a Pioli un'alternativa a Teo Hernandez, che manca, di fatto quando manca Teo Hernandez si sente, non c'è uno specialista. Andate a vederevelo su YouTube, giocatore interessante che arriva per fare il vice Teo, detto che poi sul futuro di Teo Hernandez vedremo quali saranno le evoluzioni, se arriverà l'offertona, se rinnoverà, scadenza 2026 oppure no. Nel frattempo, ripetiamo, molto molto caldo, in nome di Juan Miranda, direi anche discretamente vicino. Voglio stare un po' più cauto, ma ci sono buone chance di vederlo con la maglia del Milan. Ditemi che ne pensate, commentate numerosi qui sotto, lasciate un bel like e iscrivetevi da questa parte. Attivate la campanella, mi raccomando ci tengo, arriviamo presto a 20.000 iscritti. Un saluto a tutti e buona serata, scusate per la luce.